I laboratori inizieranno sostanzialmente questa settimana a partire da venerdì. Come verranno gestiti? Sostanzialmente gli esercizi saranno proposti ogni due settimane, quindi questo venerdì e poi tra due venerdì. In realtà tra due venerdì ci sarà poi Pasqua, quindi ci sarà poi un salto, però indicativamente ogni due settimane. A differenza di quanto veniva nelle settimane scorse e avviene in tanti altri corsi, non dividiamo in squadra perché non c'è più il problema della capienza dei laboratori, ma lavorate tutti da casa. E ci saranno alcuni momenti in queste due settimane, quindi come penso di organizzare questi laboratori? Nella settimana 2N più 1, quindi questa settimana è poi a scalare, il giovedì verrà pubblicato sul repository SVN vostro privato l'esercizio. Voi riceverete a breve, quindi tra domani e dopodomani, un'email con le credenziali per un vostro repository SVN privato, in cui sostanzialmente ogni due settimane voi troverete il progetto del nuovo esercizio. Potete usare questo repository per salvare anche i vostri esercizi, se volete mantenerli a disposizione, e potete usarlo come volete. Tenete presente che questo repository sarà a vostra disposizione fino alla fine del corso, dopodiché non è garantito, e quindi sostanzialmente dopo la fine del corso, ma indicativamente dopo la sessione di esami, che non so bene quando avverrà, sostanzialmente quel repository verrà disattivato e poi cancellato. Quindi va bene mantenere le cose del corso, non mettete altre cose perché prima o poi scompaiono. Quindi il giovedì ci sarà la pubblicazione dell'esercizio, quindi lo potete trovare, lo potete iniziare a guardare in anteprima, il venerdì, nell'orario di laboratorio, quindi mi pare alla mattina, ci sarà una lezione in diretta, indicativamente con la virtual classroom, come stiamo facendo ora, e l'esercitatore del corso vi farà una breve introduzione all'esercizio, diciamo 20 minuti, 30 minuti al massimo, in cui vi andrà a raccontare l'esercizio, che poi voi probabilmente avete già visto, e soprattutto vi andrà a dare alcune indicazioni pratiche e concrete su come risolvere alcune cose. E ci sarà anche la possibilità di avere, di fare domande generali, quindi direttamente nella virtual classroom, a cui il nostro esercitatore potrà rispondere, in modo che dubbi sul testo o altre cose, o dubbi che avete comunque già acquisito prima, perché avete a disposizione l'esercizio dal giorno precedente, possano essere risolti. Nelle due ore successive, utilizzando non la classroom, che è collettiva, ma magari qualcosa di personale e più individuale, come il canale Slack, a cui, ricordo, iscrivetevi, ci sarà la possibilità di fare domande specifiche e anche individuali. Quindi l'idea è che voi fate delle domande nella chat Slack dedicata ai laboratori e chi può rispondervi, quindi ci sarà l'esercitatore più gli studenti che hanno le borse di collaborazione, che saranno lì pronti a rispondere in maniera individuale. Se la domanda non è banale, non è semplice, c'è la possibilità di attivare una chat, una video chat, utilizzando indicativamente Zoom. Zoom prevede anche di poter condividere il vostro schermo, di poter controllare lo schermo, e quindi ci sarà la possibilità di avere un'interazione molto stretta e spero che possa permettere di risolvere tutti i problemi, anche individuali. Le domande verranno fatte nella chat generale, perché così sono poi a disposizione di tutti e anche le risposte che eventualmente vengono date in linea. Ovviamente questo avviene nelle ore di laboratorio, dopodiché nei sei giorni successivi, scusate, vedevo qualcosa nella nelle note condivise, quindi nei giorni successivi voi avete la possibilità di usufruire del supporto degli studenti collaboratori andando sempre a scrivere nella chat relativa ai laboratori su Slack le vostre domande. Gli studenti collaboratori sostanzialmente sono a disposizione, quindi ovviamente non in maniera continuata, con un po' di ritardo, si collegheranno di tanto in tanto per andare a rispondere alle vostre domande, eventualmente anche attivare una chiamata per poter fare una risoluzione di problemi più specifica. In questa seconda settimana, quindi la settimana 2N più 2, che sarebbe non questa in cui siamo, ma la prossima, sempre in orario di laboratorio, quindi il venerdì, ci sarà la presentazione della soluzione. La soluzione verrà ovviamente discussa e presentata in modo che voi possiate vedere i particolari dettagli. Ovviamente c'è la possibilità di fare domande in diretta nella lezione. Nei giorni successivi voi potete analizzare questa soluzione e eventualmente cercare di continuare la vostra se non l'avete fatta completamente e avete ancora la disposizione, sempre la chat per fare domande e avere un feedback ed eventualmente se continuate a avere problemi attivare delle chiamate individuali con i collaboratori, con gli studenti collaboratori. Ovviamente in chat ci sarò io e ci sarà anche l'esercitatore. In questo corso in realtà ci sono due esercitatori che saranno disponibili, ovviamente non 24 ore su 24, ma in maniera sporadica a leggere le vostre domande, eventualmente rispondervi e cercare di risolvere tutti i vostri problemi. Quindi questa è sostanzialmente l'organizzazione che io pensavo di utilizzare e che in realtà verrà utilizzata con piccole varianti anche negli altri corsi in parallelo di programmazione ad oggetti. Domande? Chiarimenti? se c'è qualcosa perfetto, direi che sembra tutto chiaro. In ogni caso, mercoledì io poi vi presento, preparo un piccolo documento con le regole per poter interagire, le tempistiche dettagliate, però volevo darvi già un'idea generale di come funzioneranno i laboratori. Io poi cercherò, visto che comunque nella seconda settimana insomma sarà tutto un po' più scarico, di darvi qualche esercizio in più, magari di cui non verrà discussa pubblicamente la soluzione, ma di cui magari vi pubblicherò la soluzione separatamente, però giusto per darvi qualcosa in più su cui lavorare, soprattutto nelle seconde settimane. Domande? Iniziamo questo venerdì? Sì, iniziamo questo venerdì. Quindi questo venerdì ci sarà il primo laboratorio, che vuol dire, che torni indietro sulla slide precedente, che giovedì troverete sul vostro repository SVN privato l'esercizio. Non avete ancora repository SVN, quindi non avete ancora ricevuto le credenziali, perché volevo avvisarvi prima, in modo che sappiate che vi arriverà un'email e cosa vi servirà con il repository SVN. Però indicativamente, domani riceverete le credenziali, entro domani riceverete le credenziali. Domanda, ci sono le consegne? Sì, nel repository SVN voi fate un'operazione di import del progetto, l'abbiamo visto la volta scorsa con l'esercizio che vi ho fatto vedere. in questo repository voi ovviamente avete i permessi sia di lettura che di scrittura, quindi fate l'import di un progetto che è la parte iniziale dell'esercizio, in cui ci sono, ci sarà un file con i requisiti, ci lavorate, dopodiché andate a fare quell'operazione che si chiama di commit. e questa mattina vediamo un esercizio e vi faccio vedere come si fa anche il commit per andare a scrivere su repository le modifiche rispetto alla versione precedente che avete scaricato. Come vi dicevo nella presentazione, le consegne sono corrette, nel senso che noi eseguiremo dei test e vi manderemo e condiveremo con voi i risultati, ma non sono valutate in termini di voto finale, quindi non è obbligatorio ma è altamente consigliato anche perché poi l'esame finale seguirà sostanzialmente questo meccanismo. vi mostro poi comunque come come accedere al repository privato ma è decisamente semplice ci sono comunque le istruzioni online quindi ovviamente anche qui se ci sono problemi utilizziamo la workspace slack in cui appena c'è qualche domanda io cerco io o comunque gli esercizatori cercheremo di rispondere è molto semplice perché si tratta di fare un import e quindi non non c'è nulla di particolare domanda il test restituirà qualche feedback? sì quindi nella settimana 2 dopo che quindi la settimana 2N più 2 dopo che è stato presentata la soluzione in laboratorio noi eseguiremo i test e vi verrà inviata un'email con il risultato ovviamente vi saranno messi a disposizione i test non vi dico tanto di più sui test perché diciamo avremo occasione prima di che voi vediate i risultati di fare una lezione sui test per capire come funziona e quindi come poterli leggere e interpretare ok altre domande non ci sono punti bonus se fate i laboratori ok sono una qualcosa che serve a voi cioè è difficile superare l'esame un esame di programmazione senza aver provato a programmare quindi siete invogliati a farlo diciamo che negli anni scorsi ogni tanto abbiamo provato a dare dei punti e sostanzialmente si osserva che chi tendenzialmente fa i laboratori in maniera regolare poi sostanzialmente supera gli esami prima e con voti tendenzialmente più alti ok se volete poi vi faccio vedere anche i dati di questa analisi domanda se queste lezioni sono caricate sul portale allora saranno caricate sul portale perché vengono messe in automatico in ogni caso io scaricherò il file e lo metterò anche su youtube in modo che poi a voi abbiate tutto sulla sulla vostra sulla playlist ci sia tutto anche le lezioni che io video registro separatamente con con gli altri con gli altri programmi e quindi quelle che vi metto a disposizione prima delle lezioni ok io cerco di mantenere il canale youtube perché comunque aperto è facile utilizzare soprattutto dovrebbe essere in grado di resistere anche carichi di accesso molto elevati quindi quello è resta valido ok altre domande relative ai laboratori ripeto venerdì scusate mercoledì ci torneremo ancora sopra e vi darò qualche dettaglio vi farò una piccola demo così avrete tutto chiaro e dovrebbe essere relativamente facile poi da utilizzare in ogni caso vi ricordo che poi durante il laboratorio c'è la dispositività degli eserciziatori degli studenti collaboratori che dovrebbero essere in grado di risolverli praticamente tutti i problemi ok non vedo altre domande sulla chat perfetto allora a questo punto termino la condivisione dello schermo e invece quello che vorrei fare è aprire Eclipse a questo punto magari disabilito la telecamera così abbiamo Eclipse cioè voi vedete Eclipse a tutto schermo senza vedere la mia figura e vado a scegliere Eclipse allora scusate mi cerco di sistemare lo schermo in modo da poter vedere la chat così se mi fate domande io sono in grado di rispondere allora perfetto adesso dovrei riuscire a vedere sia Eclipse che la chat quindi vedo già una domanda quindi la domanda è di creare il concetto di istanza di una classe di istanza di un oggetto allora istanza effettivamente è sinonimo di oggetto per cui vado a prendervi il vostro primo progetto quello che avevamo scritto come esempio programma Java in realtà vi creo una nuova classe esempio stanze volume main quindi se io ho una classe ad esempio prendiamo una classe già predefinita nelle librerie standard che può essere string s quando la dichiaro in questo modo qui ho dichiarato un riferimento ad un oggetto string quando scrivo s uguale a new string l'ho costruito una stringa col costruttore solito quindi non ho usato l'inizializzazione colletterale però sostituite la stringa qualunque classe voi vogliate questo diciamo crea un oggetto l'oggetto a cui s punta sostanzialmente è un'istanza della classe s quindi oggetto creato è un'istanza della classe string ok possiamo anche dire l'oggetto puntato da s è un oggetto di tipo string ok quindi crea un oggetto eventualmente possiamo utilizzare anche il termine istanzia un oggetto un po' meno alloca ok perché alloca fa pensare semplicemente alla creazione di spazio di memoria qui in realtà l'operatore new l'abbiamo visto fa delle operazioni decisamente più complesse quindi oltre ad allocare la memoria inizializza gli attributi e poi chiama il costruttore quindi ci sono dei passaggi in più ok quindi sì istanza è sinonimo di un oggetto normalmente diciamo istanza di una classe oppure oggetto di una classe che appartiene a una classe sono tutti modi alternativi di andare a spiegare l'istanza di un oggetto se l'ho detto ho sbagliato nel senso che non ha molto significato è un'istanza di una classe quindi l'oggetto è già un'istanza ok perfetto allora a questo punto vorrei riprendere con voi quindi cancello chiudo un attimo questi file vorrei riprendere con voi l'esempio dello scontrino che abbiamo visto la volta scorsa e vorrei provare a fare qualche considerazione in più e fare qualche piccola modifica quindi allora sì la classe counter allora non vi spiego esattamente la classe counter se ci sono domande poi ci torno vi faccio un esempio analogo e poi arriviamo anche a quell'esempio ok ci arriviamo perché voglio ripercorrere un po' tutte le cose che abbiamo visto ultimamente tra cui anche quelle che sono spiegate con quella classe counter quindi se alla fine non ho chiarito i tuoi dubbi me lo richiedi e ci torniamo allora avevamo il package ricevute con una serie di classi ecco a questo punto io copio e incollo non ricevute punto copy ma chiamolo ricevute due tutto il package in un altro package che chiamo ricevute due lo faccio perché così almeno vi resta nella stesso progetto la versione vecchia e quella nuova ok così abbiamo due package paralleli che sostanzialmente ci permettono di andare a vedere le due varianti dello stesso codice vi chiedo scusa un attimo prendo un sorso d'acqua e riprendiamo quindi veramente tre secondi grazie a tutti eccomi scusate allora arriviamo anche arriviamo anche al format che cosa abbiamo che cosa vi ho raccontato nell'ultima lezione vi ho raccontato che in realtà l'abbiamo visto prima è possibile andare a utilizzare degli attributi statici o delle metodi statici andiamo a considerare quello che è la classe price list tendenzialmente all'interno di una di un'applicazione noi abbiamo un'unica un unico listino prodotti quindi quando nel nostro mail andiamo a creare una nuova price list sostanzialmente ne creeremo una soltanto all'inizio quindi ogni volta che andiamo a creare una ricevuta vi ricordate che qui abbiamo creato una ricevuta ma sostanzialmente tutte le ricevute che io vado a creare si appoggiano allo stesso listino ok quindi price list ricade in quella categoria di classi che ragionevolmente hanno un'unica istanza quindi esiste un unico oggetto di tipo price list all'interno di una particolare applicazione ovviamente se io ho più applicazioni separate ognuna avrà una sua copia dell'oggetto price list o listino quindi sostanzialmente quello che vorrei fare è evitare il rischio che qualcuno che usa questa classe crei più listini andando a inserire mille prodotti ogni volta ma venga garantito l'uso di un unico oggetto all'interno di tutta l'applicazione quindi quello che vorrei fare è trasformare questa classe in un singleton ovvero una classe che ha un'unica istanza quindi ha un unico oggetto del proprio tipo innanzitutto cosa devo fare devo impedire di poter chiamare il costruttore ci sono problemi di audio mentre la connessione non è spero che la registrazione non sia a scatti ma sia intera ok quindi va e viene va bene cerco di parlare lentamente in modo che magari gli scatti non non probabilmente è un problema delle varie connessioni ok va bene è sempre così allora alla fine della lezione poi faremo un piccolo sondaggio per capire se restare qui e utilizzare altri strumenti allora torniamo al nostro esempio quindi singleton sostanzialmente noi vogliamo evitare che possa essere creato un oggetto priceless in maniera incontrollata vogliamo andare a controllare la creazione di questi oggetti quindi sostanzialmente quello che facciamo è andare a mettere il costruttore priceless come privato a questo punto cosa vuol dire vuol dire che nessuno all'esterno di questa classe può creare un oggetto di tipo priceless ora è ovvio che così può sembrare una cosa poco sensata dobbiamo ricordarci però che esistono i metodi statici che permettono di andare a creare un oggetto perché si trovano all'interno della stessa classe quindi io posso andare a mettere un public tetic e crea facciamo così create priceless anche questo ovviamente devo metterlo privato perché sono due costruttori metto qua il metodo create priceless che non fa altro che fare e restituisce ovviamente un oggetto priceless che non fa altro che fare un return di new priceless e se noi passiamo un numero di elementi quindi numero prodotti esattamente come prima lo può passare al costruttore questo è quello che si chiama un factory metodo ovvero un metodo che è in grado di creare un oggetto noi possiamo anche togliere questo numero prodotti e andare qua a utilizzare una costante public static final int numero prodotti uguale 1000 quindi utilizziamo questo per cui questo vuol dire che se io vado a utilizzare vado a duplicare questi esempi ricevute in modo che utilizzi questo altro package ricevute 2 invece di utilizzare ricevute usiamo ricevute 2 ricevute vedete che non possiamo più creare il nostro listino prezzi in quel modo ma dobbiamo andare a dire price list listino uguale price list punto create price list e quindi questo sfrutta questo metodo e quindi il modo di andare a creare un oggetto price list è controllato a questo punto numero prodotti un int quindi si numero prodotti torno qui numero prodotti sostanzialmente è la quantità di prodotti che viene poi creata qui quindi mi dice quanti prodotti vengono creati in maniera random a questo punto se noi vogliamo invece di utilizzare questo metodo ogni volta che dobbiamo creare un oggetto di tipo price list vogliamo andare a creare un oggetto price list una volta soltanto e poi restituire quello tutte le volte potremmo invece andare a dire mettiamo un private static price list questo l'ho chiamato singleton e poi vado a mettere un metodo public static price list e questo lo chiamo get price list e questo sostanzialmente cosa fa se singleton è uguale a null allora lo crea singleton uguale new price list di numero prodotti e sostanzialmente restituisce il nostro singleton quindi la nostra istanza unica di questa classe a questo punto ogni volta che noi abbiamo necessità di utilizzare un listino prezzi semplicemente andiamo a fare un get price list quindi ad esempio dentro lo scontrino invece di avere uno scontrino che è inizializzato col riferimento al listino prezzi togliamo questo riferimento e quando abbiamo necessità di utilizzare un listino possiamo andare a dire price list punto get price list punto find code quindi questo vuol dire che io mi trovo dentro la classe receipt che è completamente slegata dalla classe price list che non ha più nessun riferimento ma nel momento in cui ho bisogno di un oggetto price list cosa faccio vado a utilizzare questo metodo che mi restituisce l'unica istanza il singleton che noi abbiamo a disposizione ovviamente devo andare a modificare anche qui quindi non mi serve più inizializzare la ricevuta passandogli un listino prezzi perché il listino prezzi è unico quindi anche questa creazione qua non è necessaria questo vuol dire cosa vuol dire vuol dire che sostanzialmente io non vado a creare un oggetto price list all'inizio ma bensì lo creo la prima volta che è necessario usare un listino prezzi qui nella ricevuta quando nella prima ricevuta aggiungo il primo prodotto allora come faccio ad avere i metodi concatenati beh perché sostanzialmente price list se noi andiamo a vederlo restituisce singleton ovvero un oggetto di tipo price list quindi non è che devo per forza avere un return di this per poter concatenare le chiamate se faccio un return di this concateno le chiamate sullo stesso oggetto in questo caso sostanzialmente vado a restituire un oggetto di tipo price list quindi ogni volta che un metodo restituisce un riferimento posso andare a chiamare un metodo su quel riferimento quindi sostanzialmente io posso andare a spezzare questa scrittura in questo modo questo equivale a price list listino uguale a price list punto get price list e poi p uguale a listino punto find code allora altra domanda per creare il singleton potevo utilizzare un flag allora la risposta è sì allora questo scusate metto il commento su questo perché tanto non ci serve più potrei utilizzare un flag però cosa vuol dire utilizzare un flag vuol dire che io devo creare un'altra variabile quindi sicuramente io posso andare a mettere una variante di questo la scrivo qua sotto facciamo un flag ok così abbiamo i due metodi diversi qui io posso andare a mettere un public scusate un private static boolean già creato uguale a false inizialmente sappiamo che è falso se not già creato singleton uguale new price list e poi già creato uguale a immagino che fosse questo quello che intendevi quindi io posso farlo anche in questo modo però utilizzando il fatto che tutti gli elementi vengono inizializzati a null quindi io qui non l'ho messo ma implicitamente il compilatore mette un uguale a null scusate un uguale a null quindi inizializza comunque tutti i singleton tutti gli attributi automaticamente posso utilizzare questo confronto per capire se è già stato creato oppure no nel metodo setter non so qual è il metodo setter forse intendi questo che ho commentato allora allora ecco il public price list quello che è questo o quest'altro io non li posso non posso mettere un flag perché questi sono dei costruttori e quindi sostanzialmente non fanno un ritorno di niente quindi il costruttore viene chiamato su un oggetto che è già stato creato quindi viene chiamato dopo che l'oggetto è creato quindi non può intercettare e scegliere se crearne uno oppure no il costruttore interviene proprio nell'ultima fase di costruzione quando c'è già l'oggetto e non può decidere di non crearlo o di creare un altro mentre invece utilizzando questo factory method posso andare a controllare se e come creare un nuovo oggetto un'altra domanda è come è impossibile creare più istanze di pricelist allora torno un attimo qui nella classe pricelist ingrandisco così abbiamo solo questa allora è impossibile andare a creare più istanze perché vedete che uno e due costruttori sono privati quindi dall'esterno di questa classe è impossibile creare altre istanze l'unico modo per andare a creare un'istanza di pricelist a questo punto è attraverso questo metodo che ci restituisce l'unica istanza in questo metodo cosa faccio vado a verificare se esiste già un oggetto singleton se esiste già vuol dire che singleton è diverso da null quindi lo restituisco se invece non esiste ancora e quindi singleton è uguale a null cioè al valore iniziale allora lo creo e poi restituisco quello allora un attimo che controllo di aver risposto a tutti dopodiché svuoto la chat ok ok ho cancellato la chat grazie allora c'era una domanda sul punto esclamativo attenzione questo è C quindi già in C quello è una negazione quindi per favore cercate di ripassare il C perché altrimenti io non posso andare a riprendere tutti gli aspetti di sintassi già chiari e già definiti a livello di linguaggio C ok quindi spero di aver risposto alla domanda relativamente a come in questo modo garantisco che ci sia un'unica istanza perfetto allora la domanda non è chiaro cosa fa la modalità static per le classi allora un attimo che ci arriviamo quindi per il momento abbiamo detto che il nostro price list può essere creato una volta sola e soprattutto avendo questo metodo che permette di accedere all'unica istanza sostanzialmente abbiamo la garanzia che tutti tutte le classi tutti gli oggetti che stanno nel nostro programma facciano accesso assolutamente allo stesso price list e quindi l'abbiamo visto in receipt io posso utilizzare price list punto get price list per accedere a quell'unica istanza quindi esiste un unico listino prezzi condiviso in tutto il mio programma esattamente l'idea è proprio che io non posso creare altre istanze ne ho una sola ed è la stessa condivisa da tutti questo è proprio il significato del singleton c'è una classe che ha un'unica istanza ed è quella unica condivisa da tutti gli oggetti ok altra domanda aspettate che la leggo meglio allora non non mi è chiaro se ne metto lo get price list l'oggetto singleton però non è completa la domanda quindi abbiamo il metodo get price list che ci restituisce l'unico oggetto non capisco la domanda però l'unico oggetto ok allora ecco allora adesso la domanda è completa quando qui facciamo new price list potremmo utilizzare il costruttore no perché? perché attenzione siamo in un metodo statico quindi questo metodo può essere chiamato non su un oggetto ma bensì sulla classe quindi quando sono dentro questo metodo in realtà non esiste ancora nessun oggetto e l'unico modo in java per andare a creare un nuovo oggetto è tramite l'operatore new quindi non posso chiamare direttamente un costruttore il costruttore è chiamato direttamente dall'operatore new ma non ho la possibilità di chiamare direttamente un costruttore da un altro metodo anche se è della stessa classe quindi new deve creare l'oggetto e poi andrà a invocare il costruttore allora a questo punto panoramica di quelli che sono gli attributi della classe singleton la nostra price list noi abbiamo questo che è un attributo di istanza quindi normale ovvero i nostri prodotti saranno sostanzialmente un array che si trova dentro l'oggetto price list in questo caso ce n'è uno solo però potenzialmente se io ne avessi più di uno ogni oggetto price list ha il suo array di prodotti separato abbiamo poi questo riferimento che io ho chiamato singleton proprio per indicare che punta all'unico oggetto ok? che si chiama appunto il singleton che è statico ovvero esiste una sola copia e questo attributo non è parte di un oggetto specifico ma sta fuori da qualunque oggetto per cui questo metodo statico get price list ha la possibilità di accedervi senza avere alcun oggetto a disposizione prima quindi quando parliamo di tipi di memoria ricordatevi che gli attributi statici delle classi stanno nella memoria statica e quindi esistono indipendentemente dagli oggetti quindi i metodi statici anche in realtà in distanza possono andare ad accedere a questi attributi in qualunque momento senza dover creare prima un oggetto l'oggetto singleton essendo qui dichiarato come private questo attributo non è direttamente visibile però attenzione questo è un riferimento l'oggetto che viene poi restituito da questo metodo è ovviamente accessibile la classe è pubblica abbiamo dei metodi pubblici ad esempio il metodo find è un metodo pubblico quindi se io in qualche modo sostanzialmente tramite questo metodo price list ottengo un riferimento all'unico oggetto singleton lo posso usare tranquillamente andando ad accedere ai suoi metodi pubblici ok benissimo a questo punto vorrei a fare un altro passaggio per quanto riguarda le ricevute allora qui nelle ricevute abbiamo definito items come un numero massimo di elementi e vi avevo detto che non è il massimo perché questo vuol dire che la la nostra ricevuta è limitata quindi se qualcuno arriva e fa una spesa lunghissima cosa succede? succede che posso andare a saturare il numero di elementi di item quindi di voci dello scontrino che sono effettivamente presenti quindi una possibilità ve l'avevo accennato nella scorsa lezione è quella di utilizzare non un un array ma bensì una lista come funziona la lista? allora sostanzialmente e provo a disegnarvelo qui interrompo la condivisione e vado a disegnarvelo qua sostanzialmente io un oggetto che è il nostro contrarino ok al suo interno ci sarà un riferimento a quello che è un item quindi qui qui ho un puntatore o meglio un riferimento all'item l'item a sua volta avrà un riferimento a un altro item quindi anche questo qui sarà un item e avrò anche qui un riferimento a un altro item ovviamente tutti i nostri avranno al loro interno un elemento che può puntare a qualcosa a un certo punto se immaginiamo di avere uno scontrino con due item l'ultimo scontrino non avrà scusate l'ultimo item dello scontrino non avrà nessun riferimento quindi qui sostanzialmente avrà un null quindi l'item oltre ad avere ovviamente un riferimento all'item successivo avrà anche un riferimento al prodotto ok di uno di sette eccetera quindi sostanzialmente ogni nostro item avrà anche un puntatore al prodotto a cui fa riferimento ok quindi volendo utilizzare volendo andare a realizzare questa struttura all'interno del del nostro programma significa che dentro lo scontrino invece di avere un array di item quindi attualmente la struttura che noi abbiamo è avere dentro lo scontrino un un array di item il problema è che questo array ha una dimensione fissa quello che voglio fare è invece avere un riferimento come in questo caso al primo item il quale avrà un riferimento al secondo il quale avrà un riferimento al terzo quindi sostanzialmente non ho nessun limite mentre invece nel caso dell'array ho chiaramente una dimensione limitata come faccio a fare questa modifica allora vi riapro di nuovo eclipse eccolo qua allora siamo tornati a eclipse a questo punto forse dovreste vederlo benissimo vuol dire che invece di avere qui un array di item con un indice che mi dice qual è il prossimo vado a mettere un private item primo elemento ovviamente l'item che vediamo qua oltre al prodotto dovrà avere anche un private item prossimo item prossimo item nella lista degli item nello scontrino ok quindi il costruttore a questo punto oltre al prodotto può avere può avere anche l'item che è prossimo e quindi this punto prossimo item uguale a prossimo quindi nella mia ricevuta ovviamente non devo più inizializzare l'array perché tanto non ne ho bisogno e non ho necessità di fare un controllo sulle dimensioni dell'array perché di nuovo non ho più un array di dimensioni limitate quello che devo andare a fare è andare a mettere item p quindi prodotto virgola primo elemento che è quello che abbiamo dichiarato lassù e queste due operazioni sostanzialmente non servono più cosa vuol dire questa operazione che quando io vado a creare un nuovo item lo metto e faccio in modo che il suo prossimo elemento sia quello che era prima il primo elemento della lista torno un attimo al disegno che vi ho fatto prima questo vuol dire che se io devo andare a creare un nuovo item ve lo metto di colore viola quindi se io devo aggiungere un nuovo item cosa succede succede che sostanzialmente il suo prossimo elemento è quello che prima era il primo elemento quindi il prossimo sostanzialmente sarà questo quindi sostanzialmente copio questo che è il primo elemento dentro il prossimo di questo nuovo item e poi faccio in modo che il primo elemento non sia più questo ma bensì quindi cancello questo e vado a farlo puntare a questo nuovo elemento quindi sostanzialmente torniamo ai clips invece di andare a dire nuovo item uguale new item e fermarci qui andiamo a dire primo elemento è uguale a nuovo item ok quindi creiamo l'elemento facciamo che il suo prossimo è quello che era prima il primo elemento e poi diciamo che il primo elemento è uguale al nuovo item a questo punto scusate che corrispondo alle domande che sono state fatte quindi inserisco sempre in testa sì è ovvio che io potrei andare a inserire l'elemento non come primo ma in fondo quindi mantenere sostanzialmente l'ordine in questo caso tutto sommato è più semplice fare così ok altra domanda se volessimo fare l'inserimento in coda la lista e non in testa allora ve lo lascio come esercizio ok provate a valutare come farlo ci sono un po' di tecniche in realtà la struttura che abbiamo qua è la stessa che abbiamo in C quindi per chi ha fatto un esame di algoritmi di programmazione provate a tradurre l'inserimento in coda in una serie di classi attributi eventualmente aggiuntivi non vorrei approfondire oltre perché questa è la cosa più semplice e tutto sommato ci interessa poco andare a gestire strutture dati complesse ok vedo già nella nella chat alcuni suggerimenti domanda se abbiamo un solo prodotto allora cosa succede se abbiamo un solo prodotto torniamo qua inizialmente il nostro primo elemento qui non c'è scritto ma implicitamente è inizializzato a null quindi quando vado a creare un nuovo item il suo prossimo sarà null quindi sostanzialmente l'unico elemento che inserisco avrà come prossimo null e dopo che l'ho creato diventerà il primo elemento a questo punto qui abbiamo fatto una serie di cicli che in questo caso non servono più quello che posso fare è andare a stampare gli elementi uno per uno ok quindi sostanzialmente se io ho un unico elemento vado a dire primo elemento punto print print ok in realtà a me interessa poter accedere a tutti gli elementi quindi non soltanto il primo ma anche il secondo quindi devo avere la possibilità di fare item prossimo è uguale primo elemento punto get next quindi vado a chiedere qual è il suo prossimo e a questo punto continuo a iterare in questo modo il metodo get next ovviamente non c'è qui devo andarlo a aggiungere qua e quindi andrò a mettere un item get next e qui faccio un return di prossimo item quindi a questo punto posso andare a scrivere quello che è un ciclo per andare a scandire gli elementi quindi vi elimino questo vado a mettere item prossimo è uguale primo elemento while prossimo è diverso da nulla andiamo a dire prossimo punto print totale perché dobbiamo andare a aggiornare in totale più uguale al prossimo punto get price e poi prossimo uguale a prossimo punto get next quando raggiungo l'ultimo elemento il next dell'ultimo elemento è null e quindi sostanzialmente esco fuori dal ciclo se proviamo a eseguire il nostro programma se non ho fatto errori otteniamo sostanzialmente la stampa di tre prodotti che sono stati creati ok è ovvio che per come sono fatti questi prodotti sono stampati al contrario ok 523 che è l'ultimo che ho inserito è il primo che viene stampato un'altra possibilità è quella di andare a invece di scandire gli elementi andare a prendere il prossimo delegare in tutto e per tutto alla classe item di stampare il proprio valore e di andare a richiamare la stampa sul prossimo elemento quindi posso andare a fare una variante di questo chiamo print ricorsivo che sostanzialmente non restituisce void ma restituisce ad esempio double stampa l'elemento ok e poi fa un return di prodotto punto get price più prossimo elemento prossimo scusate item punto print ricorsivo cosa succede che quando io chiamo questo metodo print ricorsivo il prodotto stampa scusate l'item stampa il prodotto e poi restituisce se lo faccio in due passi double somma totale prodotti successivi uguale a prossimo item punto poi ricorsivo e qui sostanzialmente restituisce questo più il totale dei prodotti successivi domanda come fa la ricorsione a fermarsi beh giustamente qui io ho iniziato ad abbozzare ma l'osservazione è corretta manca un meccanismo per fermare la ricorsione la ricorsione si ferma sostanzialmente quando il mio prossimo item è nullo ok per cui posso andare a scrivere ad esempio uguale a 0.0 e poi if prossimo item è diverso da null tale prodotti uguale prossimo item punto print ricorsivo quindi sostanzialmente se esiste un prossimo item lo richiamo altrimenti semplicemente restituisco il prezzo del mio prodotto sommato a 0 ok poi ovviamente ci possono essere infinite varianti di come scrivo questo questo metodo ma sostanzialmente l'idea è che questa è la condizione di terminazione della ricorsione ok domanda nella get next era equivalente restituire this punto prossimo item sì qui posso scrivere tranquillamente this punto prossimo item perché mi trovo dentro l'oggetto e anche qui invece di fare prodotto potrei utilizzare this punto prodotto e anche qui this punto prossimo item e qui this punto prossimo item e qui infine this punto prodotto di solito non lo faccio perché è più compatto non mettere il this perché mi risparma per l'appunto questi 5 caratteri aggiuntivi però implicitamente il compilatore mette quel this questo punto giusto per verificare di non aver commesso errori se lancio l'applicazione ottengo sostanzialmente una cosa analoga a prima i prodotti ovviamente in senso inverso ok se io volessi stamparli nel senso giusto beh stampo in backtrack esattamente ok per chi ha fatto corsi di programazione avanzata questo dovrebbe essere relativamente facile ma sostanzialmente la stampa la faccio non prima della ricorsione ok quindi se la stampa la metto qua stampa dal primo elemento della lista quello che posso fare è metterla qui e in questo caso stampa per primo l'ultimo elemento della lista ok per cui se torno qua e vado a eseguire il mio programma vedete che a questo punto no non mi fa la stampa perché semplicemente invece di fare scusate qui nella ricevuta non ho chiamato il print ricorsivo ma ho semplicemente usato la vecchia versione oppure quindi oppure totale uguale a primo elemento punto print ricorsivo ok questo ovviamente in alternativa all'altro col ciclo e quindi il print non ricorsivo ok quindi a questo punto se torniamo qua e lanciamo la stampa vedete che 10 47 523 quindi esattamente lo stesso ordine che cosa vediamo qua scusate torno nella ricevuta questi sono due meccanismi diversi ve lo faccio vedere su questa che è una lista quindi molto molto semplice da capire ma in realtà vale in generale quindi qui sostanzialmente ho una diciamo scansione che potrei chiamare centralizzata nel senso che la classe ricevuta gestisce tutta la parte di scansione recupera il prossimo elemento accede al prezzo stampa il singolo elemento e passa al prossimo ok oppure qui ho una scansione diciamo così decentralizzata che sostanzialmente delega a ogni elemento la stampa di quello successivo ok ora vorrei fare ancora un piccolo passo successivo che è il seguente la classe item che noi abbiamo messo qua completamente separata in realtà viene utilizzata esclusivamente all'interno della classe ricevuta quindi perché andare a utilizzare una classe separata quello che potrei fare è visto che item è utilizzato esclusivamente dentro ricevuta potrei andare a dichiarare item come una classe annidata dentro la classe ricevuta quindi questa dichiarazione che io trovo qua la posso prendere così com'è e andarla a mettere direttamente dentro la ricevuta quindi la posso mettere qua all'inizio allora tolgo un po' di commenti così un po' più compatta scusate un attimo quindi io la classe item la vediamo qua riduco un attimo le dimensioni dentro la classe receipt normalmente quando io vado a mettere una classe interna è perché mi interessa mantenerla circoscritta quindi può essere private a questo punto la domanda è abbiamo visto che possiamo dichiarare le classi interne come static che cosa significa questo significa che sostanzialmente gli oggetti della classe item saranno sostanzialmente slegati da specifiche istanze della classe receipt che li contiene cosa domanda cosa guadagniamo nel fatto della mettere la classe annidata allora non abbiamo più velocità nel senso che comunque la classe è quella quindi la dimensione è necessaria guadagniamo sostanzialmente in compattezza del nostro codice per cui abbiamo una classe semplice semplice come questa che è direttamente dentro la classe che la usa quindi ha senso andare a dannidare delle classi che sono piccole quindi poche righe l'altro aspetto che noi guadagniamo è il fatto che all'interno del nostro insieme di classi ne vediamo decisamente di meno quindi se andiamo a prendere il package la classe item che prima era qua sostanzialmente la posso cancellare e quindi nel mio package ho semplicemente tre classi quindi ho semplificato la diciamo il primo livello di classi che stanno dentro il package in generale quando parliamo di complessità parliamo di quantità di elementi quindi più elementi abbiamo più è complesso andare a capire come è fatto un package togliendolo da qua abbiamo semplificato il package non abbiamo tolto funzionalità ma l'abbiamo annidata e nascoste dentro e quindi non vediamo i dettagli ok quindi ripeto mettendo la static sostanzialmente le nostre classi i nostri oggetti item sono slegati dagli oggetti della classe ricevuta che li creano se noi non mettiamo static significa che quando andiamo a creare un item e l'item lo creiamo semplifico un po' tutto vado a togliere un po' di codice aggiuntivo che era nell'altra variante quindi ve lo cancello perché tanto ce l'abbiamo ancora di là quindi quando vado a fare un new item se non metto il modificatore static significa che l'oggetto ricevuta che ha creato questo item automaticamente crea un legame e quindi dall'oggetto item io avrò la possibilità di andare a accedere agli attributi eventuali di questo oggetto ad esempio quando io vado a fare il print ricorsivo il totale invece di andarlo a calcolare qua lo potrei mettere qui come attributo privato totale uguale a 0.0 ok quindi non lo metto qua scusate ho dimenticato il tipo che è un double non lo metto qua e non vado a chiamare il nostro print ricorsivo per calcolare il totale ma bensì quello che posso fare è quando creo un nuovo item quindi nel costruttore che abbiamo qua sopra quindi quando creo un nuovo item passandogli il prodotto e l'item posso tranquillamente andare a dire totale più uguale a prodotto punto get price ok ovviamente questo funziona se io non metto static ovvero se questa classe quando viene creata mantiene un link all'oggetto della classe ricevuta che l'ha creata quindi il contenitore che l'ha creata quindi a questo punto dentro questo costruttore ma in realtà dentro qualunque metodo ho la possibilità di andare a accedere a un attributo non di item ma bensì un attributo della classe che lo contiene questo è molto comodo perché tendenzialmente quando io ho una classe annidata quindi questa non è soltanto annidata ma è una classe interna quindi ha un link all'oggetto che l'ha creata è una classe interna e quindi può accedere agli attributi della classe che l'ha creata più esterna ed è abbastanza comune quando io ho una classe interna avere una classe che è strettamente accoppiata alla classe esterna proprio perché è utilizzata soltanto lì e posso andare a sfruttare questo legame diciamo privilegiato che ha l'oggetto item con l'oggetto ricevuto che l'ha creata ok quindi con questo abbiamo visto un un paio di esempi di classi non annidate questa è interna l'altra è statica e quindi è un po' più distaccata quindi non ha questo link non ha la possibilità di avere l'accesso all'attributo totale della classe e dell'oggetto che lo contiene domanda se una classe interna ha il nome di un'altra classe del package o comunque un'altra classe che si trovi ovunque ha priorità la classe interna quindi quando prima c'era sia questo item qua che l'item esterno ovviamente quando io qui faccio riferimento all'item faccio riferimento a questa classe se volessi far riferimento a una classe che si chiama item che si trova in questo package o in qualunque altro package devo utilizzare il nome completo quindi volendo io lo faccio però qui potrei fare riferimento ad esempio a ricevute questo è l'item che si trova nell'altro package usando il nome completo evito l'ambiguità con l'item che normalmente viene considerato la classe interna che abbiamo dichiarato qua sopra lo tolgo perché qui non c'entra nulla ok a questo punto direi che vi ho fatto un po' di esempi di come possiamo utilizzare queste caratteristiche quindi le classi interne io tenderei a non andare avanti con gli altri esempi comunque ne avete un po' sia nelle lezioni ecco esattamente adesso apro alla serie di domande il format allineato cosa intendevo col format allineato intendevo che allora se io vado a eseguire questo codice quello che ottengo ad esempio lo vediamo qua il 90,48 non è allineato al 30.21 cioè i punti non sono allineati i decimali non sono allineati ok quindi cosa posso fare sostanzialmente quando vado a stampare il tutto e quindi lo faccio sostanzialmente dalla classe product quando voi vi ritrovate su una classe se fate F3 automaticamente Eclipse salta alla definizione di quella classe quindi quando io ho una stampa vorrei poter allineare tutti i miei nomi quindi invece di stampare semplicemente così vorrei poter andare a fare ad esempio uno string punto format 100 punto diciamo 8s mettere qua una tabulazione e qui andare a mettere nome qui se no allora scusatemi prima vi apro un attimo gli esempi dalle stringhe cosa o to o 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 Allora, ho commesso un errore, vi faccio vedere il formato, torno a condividervi questo, ok? Allora, quando io vado a mettere un formato, quello che posso andare a indicare è sostanzialmente il percento, eventualmente il numero di posizione del parametro, che di solito non viene utilizzato, un flag che mi dice se voglio andare a giustificare il valore a sinistra, eventualmente inserire un segno, la dimensione, punto, la precisione che funziona per i valori con una parte decimale e poi il tipo di conversione che può essere, ad esempio, B per un booleano, S per una stringa, D per un integer, F per un decimale e E se vogliamo utilizzare la notazione scientifica. Quindi sostanzialmente se vogliamo stampare una stringa su un certo numero di caratteri, dobbiamo andare a mettere per cento il numero di caratteri e poi S. A questo punto vi ricondivido Eclipse, quindi qui nel prodotto non devo andare a mettere un punto, ma devo andare a mettere il numero e basta. A questo punto se io eseguo... Ah, scusate, probabilmente c'ho una doppia stampa da qualche parte. Allora, qui il print ricorsivo Lo possiamo semplificare. Andiamo a togliere il void, quindi scusate, semplifico questa stampa perché... Quindi visto che il totale lo calcoliamo in altro modo... Quindi quando prendo il primo elemento faccio un print ricorsivo e stampo e qua nel prodotto, scusatemi, c'era un doppio system punto out, ecco qual era il problema... Ecco, forse sono troppo pochi 8 caratteri, ne mettiamo 15... Ecco, vedete che a questo punto io ho il prodotto e poi il prezzo. Ovviamente il prodotto però è allineato a destra, ok? Se io voglio fare un allineamento a sinistra... Quello che devo fare è andare a mettere qui un meno 15... A questo punto qui ho 15 caratteri e in questi 15 caratteri il nome del prodotto viene allineato a sinistra. E ovviamente avendo 15 caratteri fissi, una tabulazione è seguita dal prezzo, ecco a questo punto è tutto allineato. Ovviamente qui mi è andata bene che io ho tutti i prezzi su due cifre. Se ne avessi, provo a rilanciarlo su prodotti sotto con una cifra in meno, vedete che non è più allineato. Quindi quello che voglio fare è andare ad esempio a mettere qui il prezzo stampato su diciamo 6 caratteri. A questo punto se stampo e vedete che in questo caso ho un prezzo che è sotto, quindi usa soltanto le unità, usa anche le decine, è tutto allineato e quindi ho i miei prezzi tutti allineati. Quindi qui ho i miei 15 caratteri del nome del prodotto e poi ho 6 caratteri che mi rappresentano invece il prezzo. Quindi 15 caratteri del tipo stringa, 6 caratteri con due decimali del prezzo. Quindi questo è quello che io intendevo per andare a stampare in maniera allineata i prezzi. Ok, sì, vedo, scusate, vedo adesso la chat perché è raccoperta da Eclipse. Vedo che mi avete dato i suggerimenti corretti. Il tema dei laboratori è stato affrontato all'inizio, nei primi minuti vi ho descritto il, ecco sei disconnesso, la persona che mi ha fatto la domanda. Quindi per chi non c'era nei primi minuti, ho parlato un po' di laboratori, comunque il tema lo riprendiamo ancora mercoledì e intanto vi ricordo che vi arriverà un'email con i vostri, con la, scusate, le credenziali per accedere al vostro reposito di Subversion. Domanda, si può fare anche con il totale? Sicuramente, nella mia ricevuta, qui dove vado a stampare il totale, io qui avrò stampato il totale su un certo numero di caratteri. Allora, ecco, benissimo, è tornato chi aveva fatto la domanda. Ne ho parlato all'inizio, riceverete un account e ho usato due slide all'inizio, vi pubblico anche quelle sulla pagina del corso. In ogni caso vi ricordo di iscrivervi al Workspace Slack perché è lì e dove comunque potrete chiedere tutte le domande offline, quindi non durante le ore di laboratorio quando avete problemi. Allora, perché in Eclipse ci sono degli alert sui metodi getPrice e getNext della classe item? Benissimo. Allora, in realtà anche su print. Vedete che abbiamo visto che molto spesso quando commettiamo un errore in Eclipse ci viene sottolineato il frammento di codice errato in rosso. Benissimo, è facile. A volte qualche frammento di codice ci viene sottolineato in giallo, come in questo caso. Quindi adesso vi allargo un pochettino il codice. Quindi vedete che print, ma anche getPrice e getNext sono sottolineati in giallo. Questo viene anche evidenziato dal margine dove vediamo questo simbolino di warning, quindi il triangolo giallo. Se io vado qui, quello che mi viene riportato è che il metodo getNext dal tipo received.item non è mai usato localmente. Quindi sostanzialmente cosa succede? Eclipse, in realtà il compilatore, ma lo fa anche il compilatore standard Java, verifica che in una classe tutti gli elementi vengano utilizzati. Il metodo getNext, visto che vedete che siamo passati dalla versione centralizzata a quella con delega, il metodo getNext che utilizzavamo qua, a questo punto è commentato e quindi non è più utilizzato. Questo vuol dire che sostanzialmente lo potremo rimuovere. Ora, io non lo rimuovo perché vi lascio il codice con le due varianti. In generale, quando voi scrivete il codice, è bene andare a eliminare tutto quello che non è utilizzato. Ripeto, io non lo faccio perché vi lascio il codice, quindi ho tutte le varianti, potete commentare e decommentare. In generale è una buona norma non andare a mantenere nel vostro codice più varianti. Una volta che avete verificato che una certa variante funziona meglio delle altre, mantenete solo quella corretta e cancellate tutto il resto. I repository che noi andiamo a utilizzare, su cui salvo tutti questi esempi, su cui voi salverete i vostri esercizi, sostanzialmente mantiene tutta la storia di quello che avete fatto. Quindi, se in un certo momento voi volete tornare indietro, quindi andare a vedere com'era il codice in passato, lo potete fare tranquillamente. La quantità degli item, no, tendenzialmente, secondo me lo potete fare voi come esercizio, non l'ho implementata. Nel format, allora, aspettate che vado nel prodotto, allora, il format, vabbè, io qui ho fatto meno 15s, significa che la stringa verrà stampata su 15 caratteri, e il meno mi dice che è allineata a sinistra. Se non metto nulla, me lo allinea a destra. Ok, per cui, se invece del questo metto un due punti, vedete che quando vado a stampare, ho un due punti dopo 15 caratteri e l'allineamento è a sinistra. Se io tolgo il meno e rieseggo il mio programma, vedete che l'allineamento è invece a destra. Ok, questa storia della quantità mi fa venire in mente che potete farlo come esercizio. Quando io aggiungo un nuovo elemento, dovete andare a verificare se esiste già nella lista di item, un item che ha lo stesso codice ed eventualmente andare a incrementare la sua quantità. ovviamente quando fate la quantità, quando incrementate la quantità, dovete anche andare a incrementare il totale e andare a tenere le tracce nell'item. Quindi qui dovete aggiungere anche un attributo di tipo quantità. se i due punti volessi metterli subito dopo il prodotto, beh, sostanzialmente puoi concatenare la stringa invece di andare a mettere i due punti. Quindi se i due punti li vogliamo direttamente attaccati alla stringa, quello che possiamo fare è fare name più due punti e quindi toglierli da qua. Quindi io ho i due punti direttamente qua. Allora l'ultima domanda che vedo è un po' particolare. Allora il maggiore uguale e il diverso che a me automaticamente vengono aspettate che vi faccio vedere un esempio eccolo qua. Questo allora bisogna abilitare quelle che si chiamano le ligature ovvero la capacità di un font di andare a prendere due caratteri che sono messi vicini e rappresentarli con un simbolo diverso. Non tutti i font hanno le ligature abilitate per cui se voi avete un font all'interno di Eclipse che implementa le ligature automaticamente queste dovete abilitare dal sistema e quindi dipende dal sistema che utilizzate e poi questo automaticamente ve le abilita. Per cui se cambia il tipo di fonte è probabile che questo torni a essere non questo simbolo di diverso ma torni a essere sostanzialmente il punto esclamativo seguito dall'uguale. Allora Eclipse quando allora immagino che la domanda sia su questa linea quando fate totale più uguale a prodotto questo quindi questo costruttore quindi un metodo particolare della classe item ha la capacità di vedere il tributo totale soltanto quando questa classe non è dichiarata statica se io dichiaro questa classe statica non è più una classe interna ma è una classe bensì annidata semplice non ha più il link all'oggetto receipt che lo contiene e quindi qui mi dice totale non può essere visto perché io non ho un legame con nessun oggetto di receipt quindi togliendo invece static e quindi facendo diventare una classe interna vera e propria automaticamente l'istanza di item che sto creando in questo costruttore ha la capacità di vedere l'attributo totale dell'oggetto receipt che l'ha creata l'attivazione del ligature direi che è fuori argomento e dipende dal sistema operativo in generale come ultima raccomandazione nell'attesa se poi avete anche altre domande ogni buon programmatore deve andare a sfruttare molto internet in particolare due siti che dovete conoscere e ragionevolmente dovete utilizzare sono ottimo stackoverflow e un qualunque motore di ricerca qualcuno usa google io preferisco DuckDuckGo semplicemente perché google traccia tutte le ricerche che voi fate e quindi sa il colore dei calzini che avete in questo momento DuckDuckGo sostanzialmente non traccia le vostre ricerche quindi è un po' più rispettoso della privacy e ovviamente stack overflow ve lo faccio vedere velocemente quindi vi faccio la condivisione di questo è stackoverflow quindi l'indirizzo è stackoverflow.com e qui potete mettere qualunque domanda e ragionevolmente ad esempio string java format left align e quindi avete una serie di domande che a cui è già stato risposto e che vi danno probabilmente l'equivalente di del format qui ad esempio c'è una domanda in cui viene utilizzato system autoprintf che è sostanzialmente l'equivalente un po' più sintetico di utilizzare lo string punto format ok adesso torniamo a condividere Eclipse ok allora prima di rispondere alla domanda sul repository vorrei farvi vedere come una volta che io ho modificato tutto allora l'altra volta ho fatto l'import del progetto ho fatto delle modifiche rispetto all'import dell'altra volta quello che posso fare è andare a fare un click destro andare a scegliere la voce team e poi in team andare a scegliere commit quando faccio un commit mi esce una finestra in cui io posso andare a inserire il mio commento quindi ad esempio lezione del ok allora vi faccio la condivisione dello schermo intero ok allora ecco la finestra del commit quindi lezione del oggi è il 23 marzo 2020 qui sotto ci sono tutte le modifiche che abbiamo fatto se voi fate un commit senza aver modificato nulla il risultato è che qui non vi trovate nulla e quindi non potete fare nessun commit perché il commit che cosa fa va a salvare tutte le modifiche rispetto a quanto è già presente nel repository quindi in questo caso vedete che c'è la cartella ricevuta 2 l'esempio ricevuto 2 la price list il prodotto la ricevuta e queste sono tutte quelle che abbiamo modificato a questo punto se io do ok mi chiede di andare a mettere la password e a questo punto mi ha salvato tutto lo vediamo perché non c'è più il simbolino di maggiore davanti e vediamo la piccola icona del diciamo del cilindro arancione che indica che è tutto su repository quindi a questo punto se voi andate sul repository vi ritrovate immediatamente questo codice che io ho appena messo questo sostanzialmente salva la versione che voi avete attualmente sul vostro computer e ovviamente nel repository sono mantenute tutte le versioni dalla creazione quindi il repository mantiene tutte le versioni quindi ogni volta che voi fate un commit salvate una foto immediata di quello che avete fatto per cui la mia raccomandazione è fate i commit spesso in modo che se fate qualche pasticcio potete eventualmente tornare indietro allora tolgo la condivisione e rispondo intanto alle domande allora parto dal fondo fa automaticamente il push allora a differenza di git che magari qualcuno di voi ha già utilizzato che è un sistema di controllo delle versioni distribuito subversion è centralizzato quindi quando voi fate un commit automaticamente viene salvato tutto sul server quindi non c'è una copia locale domanda dal main non ho capito i passi che si seguono per creare la price list quando si crea la ricevuta allora vi condivido clips la finestra di eclipse eccoci qua dovrebbe arrivare allora torniamo al main qua nel main io non creo più la price list perché essendo implementata come un singleton significa che nel momento in cui qualcuno chiama il metodo get price list se non è già stato creato viene creato viene restituito quindi dove serve scusate dove serve andare a recuperare la price list sostanzialmente dentro la ricevuta dentro la ricevuta quando io vado a fare un'operazione di add qui devo andare a recuperare il prodotto a cui corrisponde il codice che mi è stato dato quindi che cosa faccio faccio price list punto get price list quindi la prima volta quindi per la prima ricevuta e per il primo codice che io vado ad aggiungere il metodo get price list mi andrà a creare l'oggetto singleton a questo punto sarà disponibile quindi potrò chiamare il metodo find che mi restituisce il prodotto quindi la creazione della price list è un qualcosa che è trasparente e verrà fatta la prima volta che io chiamo get price list all'interno di un add allora se voi avete cercato di fare un commit di quello che avete estratto quindi ad esempio delle ricevute vi chiede username e password perché quello è un repository che gestisco io quindi voi avete accesso in lettura ma non in scrittura altrimenti ciascuno di voi va a sovriscrivere quello che ha fatto qualcun altro avrete l'accesso in lettura e in scrittura sui vostri repository personali quelli di cui riceverete entro domani il tutte le informazioni su nome utente e password e quindi voi non potete scrivere su quei repository lì perché è un repository pubblico che gestisco io ok sui vostri potete fare quello che volete ricordatevi che sono personali quindi se ci mettete sopra qualcosa di illegale siete rintracciabili ok nel reposito c'è un root 12 non so cosa sia in realtà io da qua non lo vedo poi controllo e ti rispondo magari separatamente in generale quando voi fate un check out ricordatevi di fare un file import in realtà non vedete la finestra comunque fate un file import e poi andate a scegliere svn e il repository ok comunque vi manderò assieme alle credenziali del vostro repository un link alle istruzioni e mercoledì vi farò vedere esattamente come come si fa allora root probabilmente è la radice del repository e 20 è ragionevolmente il numero di versione se voi vedete qua vedete che esempi ricevute due punto java ci hanno scritto un 20 perché 20 è il numero di revisioni che sono state fatte sul repository quindi ogni volta che qualcuno fa un commit su quel repository viene aggiunto 1 al numero di versione quindi tiene semplicemente conto delle revisioni e cancello la chat ok domande la lezione la metterò anche su youtube sì appena appena il portale mi rende disponibile la registrazione questo richiede un po' di tempo quindi probabilmente non oggi ma domani mattina io l'abilito quindi sarà visibile a voi sul portale e il video lo metterò anche su youtube allora domanda perché si utilizza string e non string buffer perché string è molto più comodo e quando devo fare operazioni di concatenazione con un semplice più riesco a farlo quindi il codice che scrivo è molto più compatto la differenza di prestazioni si vede quando io devo fare delle operazioni molto intense altrimenti non c'è molta differenza in termini di prestazioni allora non ci sono particolari siti dove ci sono altri esercizi cercherò di mettervene qualcuno a disposizione man mano che andiamo avanti e vi darò dei piccoli esercizi da fare di volta in volta magari ve li pubblico sulla pagina del corso così ce li avete da fare ok comunque il primo laboratorio è veramente molto molto semplice per cui sostanzialmente dovrebbe darevi proprio l'inizio c'è un countdown perché probabilmente tra un po' finirà la registrazione però in realtà noi siamo abbondantemente in anticipo ok infatti la lezione in realtà tendenzialmente io la chiuderei a breve a meno che ci siano altre domande quello che volevo raccontarvi gli esempi che volevo farvi vedere sostanzialmente li abbiamo finiti quindi sono aperto a domande se non vi vengono in mente adesso ovviamente potete scrivere tranquillamente su Slack e ovviamente cercherò di rispondere lì ok non vedo altre domande sulla ok allora l'esito di laboratorio viene caricato giorno prima perché così voi riuscite a dare un'occhiata e per cui arrivate preparati alla presentazione quindi se volete guardarlo prima potete se volete potete andare a recuperarvi i laboratori dell'anno scorso ma l'idea è di darvi i laboratori più o meno quando abbiamo già visto sufficiente materiale per farvelo svolgere inizierò a caricare una lezione sull'ereditarietà prima di mercoledì ma sostanzialmente non sono argomenti abbiamo finito gli argomenti che saranno oggetto del primo laboratorio quindi i prossimi argomenti saranno poi per il laboratorio successivo quindi abbiamo tempo vi caricherò penso una lezione sull'ereditarietà ma vi servirà poi per il prossimo laboratorio quindi non sicuramente per questo i laboratori sono sostanzialmente gli stessi dell'anno scorso sì sì ok a questo punto se non ci sono altre domande direi che per oggi possiamo chiudere qua noi ci risentiamo mercoledì allora domanda su svn non trovo item 2 in ricevute 2 perché in realtà l'abbiamo l'abbiamo eliminato se voi guardate eclipse non c'è più un item ok c'è semplicemente receipt l'item è quello che è stato messo dentro a questo punto dentro la classe receipt non so se ho risposto alla domanda ok perfetto benissimo a questo punto direi chiudiamo la lezione noi ci rivediamo mercoledì con qualche esercizio in più e informazioni in più specifiche su quello che è il laboratorio buona giornata e buono studio a presto a presto